Ciao a tutti ragazzi, questo è il cavo USB del mio cellulare che si sta rompendo andiamo a vedere come ripararlo utilizzando un kit di guaine termorestringenti questo è il kit di guaine della Vaurix che ho comprato circa una mesata fa ne ho già utilizzate alcune per fare vari giunti di fili elettrici ora chiaramente andiamo a scegliere quella giusta, quindi di sezione adeguata per farla entrare al di sopra, quindi dello spinotto USB-C una volta arrivati sopra lo spinotto USB andiamo a far entrare la guaina fino alla metà in modo che quando poi andiamo a termoridurla sarà ben collegata anche a questa parte e tutto il collegamento avrà maggiore forza ora prendiamo la pistola termica, selezioniamo la temperatura più alta e con dei movimenti regolari provochiamo il restringimento della guaina fino a creare una sorta di seconda pelle ecco, adesso tutta la parte deteriorata è irrobustita basterà aspettare 5 minuti per far raffreddare la gomma e poi si potrà utilizzarlo come da nuovo se vi interessa poi questo kit vi metto chiaramente tutti quanti i link in descrizione